ultime notizie sembra che un cinghiale inferocito si aggiri per i dintorni di bosa è pericoloso abbiamo le immagini in esclusiva della nostra news fake news e come ogni anno le rondini lasciano la bellissima sardegna per emigrare a sud verso il caldo potete vedere queste bellissime immagini ultime notizie un edificio colorato nel centro un notatore Berggris crescita la parte di Berggris ha rischiato di morire vediamo il servizio comunque abbiamo in esclusiva le immagini prima dell'accaduto per oggi è tutto vi lascio al servizio grazie a tutti